Ciro, ragazzo napoletano, vive in una soffitta a Milano. Quando a un certo punto alloggio gli è via fuoco, lui apre la finestra e chiede aiuto a San Gennaro. San Gennaro, aiutatemi. San Gennaro compare, figliolo, Ciro mio. Buttati dalla finestra e farò in modo che atterri sano e salvo in un terrazzino dell'edificio. Ma siete sicuri, San Gennaro? Non ti fidi di me? No, mi fido, vabbè, faccio come dite voi. E se butta dalla finestra, però se spiaccica al suolo. Arriva in paradiso, San Pietro lo guarda e gli fa Ciro, Ciro, Ciro. Ma Ciro, ma dovresti arrivare tra 25 anni, è tutta colpa di San Gennaro. Ma sei sicuro? Sì, sì, è stato lui che mi ha detto di buttarmi dalla finestra perché avevo l'alloggio che andava a fuoco. Ma lo sapresti riconoscere, questo San Gennaro? Dice, certamente che sì. Allora San Pietro lo porta a un banchetto dove ci stanno tutti i santi del paradiso. E Ciro lo riconosce in un angoletto in fondo semi nascosto. E lui, San Pietro, si avvicina, lo guarda e gli fa... A Sant'Ambrogio, smetti dei fasti scherzi del cazzo o no?